probabilmente Krag anche se i curator ci sono i murloc e i robot ma fa veramente schifo secondo me sia curator che i sera sono abbastanza scarsi io andrei di Krag poi il Bertelli poi il Bertelli avrebbe qualcosa da dire comunque il Bertelli cioè scusami un attimo il Bertels cioè il Bertels nell'issa prende i sera e non prende cose minore di un tipo che ha le costo alla fine cioè è pauroso ci hanno fatto pure il meme perché è incredibile prende i sera e vince e vince bravo lui bravo lui questo è un po' Batto Ground comunque cioè vedi in pochino partite ne abbiamo fatto due partite qua queste sono le due partite dell'issa e hai fatto ottavo e sesto ma non ci potevi fare niente infatti domani lì sei uno strozzo caro sono un meme ormai sono un meme di venti cioè veramente caro purtroppo vivere così è duro la cosa buona è che abbiamo iniziato due game con il token questa è l'unica soddisfazione che ho visto è vero abbiamo iniziato però non è comunque bastato 2-3 è il più solito è il più forte non so come lo vedi tu l'1-2 però probabilmente con altri eroi sarebbe interessante cosa in che senso tu 1-2 tu 1-2 non ti piace cioè qua prendi sempre 2-3 a prescindere dal champ che usi sì cioè a meno che non sei patches che allora prendi la canaglia o sei il rat king che magari c'è il baffato prenderei sempre 2-3 perché pareggia con tutto in pratica salvo pezzi baffati e è un murlock che adesso vabbè con crag non cambia più di tanto però tipo se adesso ti appare una shop murlock 2-1 rock pool puoi frizzarlo però qua c'è solo un murlock 2-1 quasi infatti poi dipende tipo se eri maiev potevi anche ragionare sulla mummia invece perché tipo se sei un eroe che gioca all'uno penso che mummia sia perché poi la mummia ti prende valore il tuo dopo esatto esatto mentre il rock pool il rock pool è comunque un buon pezzo però perché puoi baffarlo con un altro rock pool però la mummia ti fa scalare i pezzi piccoli quindi un po' più forti secondo me con tipo maia e vera fam il fatto che se trovi il rock pool come dicevi tu alla fine lo vendi ma è un più gratis no? sì esatto perché il problema di neve il token è di avere tre pezzi poi a turno 5 cioè a 5 gold che fa il turno 3 sì poi qua in genere tipo te a turno 3 adesso avendo preso il rock pool potresti valutare anche per andare tipo tazza vendi cioè puoi fare delle cose ecco allora qua aspetta però abbiamo trovato il 4-2 e la canaglia in realtà 4-2 canaglia è solido no? cioè 4-2 canaglia è un 5-3 e un 3-2 non so se si fa questo conto potresti anche fare tipo frizzare tazza? eh frizzare tazza non è male però lo fai canaglia fai scusa mozzo mozzo vendi e prendi sauro lisco e frizzo e frizzi ok perché così hai tre tribe sicure e fai la tazza su tre pezzi solido no? molto solido sì la giocata più solida che puoi fare qua in più hai preso cioè hai buttato diciamo hai investito questi due gold che avevi in più facendo il monstro che quindi se troviamo il coin possiamo anche fare giocate alternative cioè al fine hai buttato un gold solo non è facile giocare precise con i gold allora qua eh sì anche io prenderei penso più uno più uno sì prendi più uno più uno cioè ripiano più basso è foda solo se da tipo un'altra canaglia credo sia sul livello della più uno più uno perché fai la coppia e fai run through di morte però se no è sempre forte più uno più uno quindi fai così fai tazza e fai più uno più uno e baffano ovviamente e baffi certo c'è contro maiev quindi a turno 6 potrebbe batterci il buff ci serve positioning è questo qua ci sta non so se è meglio così forse è meglio così esatto ti stavo per dire forse addirittura è meglio il 4 o 5 a me prima della canaglia e vediamo vediamo come si è messi con maiev se basta anche il pino più uno sposta assai cioè in realtà sposta parecchio il pino più uno è uno di quei segreti rotti perché è rotto esatto cioè il limite è fortissimo le coin il discover del pezzo uno e le e le e il più uno più uno a tutti sono troppo più forti di altri di altri segreti comunque qua abbiamo perso il flip quindi ci prendiamo 4 danni e vabbè come per esempio dai più uno salute o dai più dei più due aggiungi pezzo cioè c'è una differenza importante cioè sono una differenza abissale credo che qua ci andiamo a trovare un pezzo a 3 no? eh sì sono d'accordo non so su l'eropower no non c'è niente che si possa fare abbiamo trovato lo spawn in realtà qua possiamo quello che farei io per la carica non so se noi noi non credo che vogliamo tirare un po' l'eropower dopo no? con un crag cioè non credo no con 5 pezzi è basto no? potremmo prendere o il 2-2 o il 3-2 e frizzare eh penso che faremmo proprio questa giocata qua che hai detto spawn e frizzare dobbiamo solo ragionare se è più forte su 1 prendere spawn o il 3-2 esatto forse è più forte spawn dovrebbe essere più forte spawn sì vediamo cosa ha Paolo Paolo ha 2-Murlock è andato al 3 come noi quindi sì io prenderei spawn qua frizzerei devia botte 2-5 perché spawn è una 7-7 1-2-3 mentre devia è una specie di 6-3 del genere è un 6-3 esatto giusto quindi quindi la spesa sì dipende sempre da cosa Paolo perché se ha il taunt 2-3 allora è la più forte devia botte se non ce l'ha magari ha il taunt 2-2 da prima è più forte la prova insomma è molto a caso però comprare 3-2 e piega la mire cioè il 2-5 il turno dopo ci sta di brutto bisogna sperare che il pezzo aggiuntivo esca qualcosa sia buono così possiamo darvi anche la tazza e prendere tutti e tre pezzi esatto e fare un punto molto solido altrimenti faremo due roll per poi fare level up e comprare un pezzo ma comunque Paolo è forte ok quantomeno i trade sembrano essere andati bene no? sì abbiamo minimizzato i danni va bene 5 se no qua potevano essere anche 7 il pezzo non è buono mi sento di dire questo quindi è ingiocabile c'era forse il goal che poteva peggiorare la situazione fa uno dei roll eh sì vediamo cosa esce il primo roll esce il 3-1 e il 3-3 cioè potremmo anche pensare di frizzare per fare poi tir up il problema è che se poi prendo il 3-1 sono fillato sta ragionando che se contro Ktoon potresti anche fare tipo 3-2 piega la mire sul 3-2 vendere piega la mire tazza e prendere immediatamente il 3-1 ok perché contro Ktoon dovrebbe essere forte vai io farei così in altre situazioni no in altre situazioni una roba del genere tu non frizzi penso no perché poi con i gold eh no perché poi non riesci a attaccarlo bene si esatto però poi è fortissimo perché vendi la tazza e il 2-5 attacchi il 3-1 al 5-4 belli pulito e stai buono così quello lì pompa anche la bestia il 9-10 e contro Ktoon siccome Ktoon ha pochi pezzi avere uno scudato con molto attacco in genere sposta è molto corto e ora apprezzato il fatto che lui sia Ktoon che comunque è sopra non avresti comunque frizzato quella da Bernalà cioè avresti rullato ancora si avrei rullato alla fine quella non è che faccia chissà che è che sfiga però ma questo è buono questo è un buon hit però questo non non in realtà abbiamo vinto si abbiamo vinto prendiamo un 18.9 incredibile ci sta una volta tanto una volta c'è un fight un fight che lo vinciamo sarà il primo fight che vinciamo oggi se non è il primo è uno dei pochi secondo Zotto potrebbe essere interessante ci sta level up spaw è fortissimo coppia pompa il 18 pompa il il foronisco ci sta l'8-5 si mette sempre prima già che è sfudato non lo so di San Lee qua è molto è close è close cambia poco quello probabilmente dopo due attacchi di Spawn considerato che Udora potrebbe avere sette pezzi considerato che Udora becca la turno 7 probabilmente il turno peggiore si chiama il turno 6 perché vuol dire che ha già fatto la sua tripla quindi potrebbe avere cioè se ha azzeccato fango ci distrugge si si ha preso l'amenagerie ovviamente il gioco non ti segna che ha triplato no? con l'HP no non te lo segna ma a volte segna a volte non segna se ti ripete il gioco si capisce è lo stesso gioco che ha fatto Zeppis del resto quindi che ti aspetta oggi ce l'ho un po' con Zeppis però abbia ragione il turno dopo sarà un altro turno un po' complicato perché giocheremo con con Iropower quindi probabilmente sarà level up Iropower spell il turno dopo e allora io il 5 nella mia mente lo colloco sempre comunque perdiamo questo fight anche per rimanere un po' anche in linea rispetto ai precedenti fight e lo colloco come turno in cui si va a trovare un carry no? il 5 eh sì o comunque cioè ci devi provare se non lo trovi devi cercare comunque di renderti solido quindi a volte magari non trovi un carry ma trovi comunque metti il il coiler o comunque un pezzo tempo che ti ti dà solidità devi riuscire ad ammazzare quella mamma ma mi sa che non ce la facciamo forse adesso eh no ma è chiaro è chiaro eh niente lui ha preso la mamma è trovato solo bestie e abbiamo bancato nel turno in cui aveva iniziato a prendere le bestie e siamo a 11 di vita allora non so se ha senso mai andare a cercare la mamma qua non lo so no secondo me no io prenderei i gridi di battaglia se ti ho in due volte farei esatto fai che vai su al 5 ok mi dà 8 gold questo no? quindi posso da 8 gold prendi la terazza e rolli esatto schifo no? ho doppio bolvar non è male non sono male però non sono neanche belli però contro c'è anche ghoul per paolo in realtà potremmo però potremmo in realtà prendere tutto no? eh potremmo prendere tutto però in realtà no in realtà o prendi uno o prendi l'altro probabilmente prendi 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 ghoul e basta rolli ok fai fai la benedizione di Bran vendi vendi la canaglia e fai la tazza su quei tre faccio la tazzona e la tazzina si e fai prima la tazzina non vendi la tazzona fai la tazzina ah no hai ragione vendo la tazzina e è già un ghoul giusto no? si già vendi la tazza e la tazzina fai un roll metti il deviabot primo e il ghoul in fondo il ghoul serve per non morire sto fight questo non so se doveva frizzare la daverna cioè non c'era niente di che in realtà no 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 quei pezzi che ho visto non erano da frizzare cioè alla fine c'era il 2-5 c'era una la furia a Ugar faccia abbastanza schifo il problema è che il 2-5 il 2-5 senza bran senza fango non ti fa scalare abbastanza perso quindi il roll gratuito va preso lì qua non trovi niente dovranno saltare ghoul e tazzola da comprare due pezzi si roll roll tutto le prendiamo le tazzine? secondo me no secondo me qua non si prende niente la grande non si prende niente continuiamo a uscire niente roll ancora non fare schifo il tutto il 3-1 non credo che sia morto no non è morto dobbiamo giocare qualcosa di più ma mamma mia che spazzatura allora abbiamo ticco di goal però non lo so oddio ah di tocca farla tocca farla è quello che penso anch'io tocca farla per forza ah che vuoi fare almeno prendiamo un 6 no 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 prendiamo un 6 unica cosa dovevi vendere la tazza prima perché facevi un buff in più su saurolisco giocavi il secondo goal hai ragione e la ripetevi in pool anche se non so se era utile ma si tanto adesso la vendiamo per il prezzo 6 quindi un buff perso espira serpe e questa è una partita dove si gioca per non morire un'altra delle tante di oggi come quelle di prima esatto però per forza continuate a tenere il deviabot primo perché hai bisogno che il deviabot hai un 50% che il deviabot attacchi prima del goal hai ragione si per il goal e niente adesso quello che vedo io che noi siamo a turno 9 e comunque rispetto ti ricordi al turno 7 di prima con Paolo c'è una differenza importante cioè cioè nel senso noi a turno 7 di questa partita eravamo molto più scarsi rispetto al turno 7 con Paolo si è vero cioè esatto però abbiamo messo i matchup sbagliatissimi abbiamo messo sbagliati ma in realtà pure qua abbiamo messo i matchup abbastanza sbagliati ma abbiamo avuto sfiga per care Udora al turno 7 Udora con la mamma al 7 e anche tu ne era forte in realtà adesso Paches boh in teoria con Coiler ce la si può fare è difficile io vedo madonna questa c'è Coiler Bark e due Sneed super tempo ho attaccato anche per primo no però va bene i trade van B questo non va bene per niente però è uscito un mech ok qua sarebbe buono che lui mi attaccasse il mech eh sì esattamente quello che devi sperare non è buono il roll della rip oddio però non lo so secondo me non moriamo qua dipende cosa esce da ecco bravo eh morti ok perfetto città dell'Aiza morti rip così sto gioco ma ti posso dire una cosa eh beh per favore Mike perché voi lo avete fatto ottavo ma settimo ottavo eh siamo morti in tre Mike prego ci ho visto fare run migliori condano fare run migliori no 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 non volevo stimare questo non volevo le ranno sono andando bene ma andranno bene perché la meritocrazia sul lungo periodo ma si dice quella cazzata sul lungo periodo poi effettivamente si vince eh ma è questo il succo eh è questo il succo ma io spesso una lancia in favore di Marco dicendo che Marco sei forte ma non puoi fare i miracoli battlegrounds è così cioè nel senso devi cercare poi di sopravvivere anche nelle partite che missi cioè qua tipo abbiamo missato le spelle venuto prendere la robaccia e poi abbiamo fatto la tripla e abbiamo preso il coil per sopravvivere non credo ci sia non credo che abbiamo missato in shop qualcosa che ci avrebbe potuto battere un tizio che adesso aveva due snid un coil e una barca se non c'era e se non vinceva tizi l'ha scolato lui il fatto che le partite le hai giocate bene non lo mette in dubbio nessuno quello che dice Mike è una cosa che è rivolta a me nel senso lui prende per il culo me e ovviamente dice non puoi far miracoli perché ovviamente sai il fatto che io sono una persona che veramente lo dico eh cioè guarda anche il pick tu già lo capisci un po' dal pick questo che pick è? eh è brutta questo tanto mamma mia qua è Rattking ma è spazzatura stavo pensando non ci sono i Murloc quindi non puoi neanche fare le porcherie Khadgar con Murloc e Bestie e Ciccia Zampa ok non ci sono quindi Murloc è scarso anche Curator Marigo è tipo ero più scarso insieme a Illidan e quindi Rattking per forza io non ho detto troppo alto con Igo caro che è l'appassionato di Demon Hunter ma la cosa bella è che non ci saranno né Bestie né Marloc esattamente quello che ha detto adesso l'ha detto adesso no ho detto Illidan è l'errore più scarso di Battleground oh se a voi due siete scarso non sei capace attualizzarlo non è a culo oppure c'è l'Iropower del Drago e non tramite Draghi siamo scassi ma questa cosa non puoi dimostrarla quindi beh oddio a te sì se tu sei arrivato 12k grazie a Dammo che ti accade vai prendi il mostro qua e stai lo tieni in mano e stai lo tieni in mano cioè qua l'unico di forte è Turn punto e Mike vabbè adesso non allarghiamoci un po' troppo ho capito che sono 22-28 ma non è ancora loro delle cazzate è probabilmente una cosa triste caro qua partire col mozzo così dici triste è triste no 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 ma che triste quello che ha detto Mike che ha detto che si è complimentato da solo è molto triste no no io lo faccio spesso questa giocata eh ci sta specialmente con gli eroi come era Hattking c'è chiaramente con gli eroi come Hattking nel senso eroi mediocri poter andare lì c'è la coppia di mozzo qua oddio no tirap e frizz no tirap e frizz no perché lui pensa che tu guardi anche il buff no il buff dei pirati no lascia stare quel mozzo fai le tier up giochi mozzo tanto sei contro l'fk la batti così piazzi il mozzo e basta no stavo pensando che c'è c'è la possibilità tipo di fare mozzo frizzare e tu dopo fai tipo level up giochi il mozzo che è un 4-4 che hai in mano è una giocata particolare che praticamente chiude con due mozzi e una vendimentale ah comunque mi sono perso cioè tipo ti prendevi il mozzo e te lo tieni in mano quello che hai preso baffato o comunque in alto saremmo in mano tipo l'idea è giochi uno solo dei due mozzi quello baffato in questo caso uguale siamo contro posso farti notare una piccola cosa i raw power del demone non ci sono demone a parte quello che tre partite che ho fatto è la terza volta che pensiamo di far livellare si già non è che ci tocca proprio no no ma infatti lo faremo chiaro allora la giocata che dicevo prima era prendere il mozzo che si piglia il buff ok e ne giochi uno solo dei due dei mozzi che hai in mano giochi il 4-4 si è uguale tanto è ricontro la fk ti frizzi la vendimentale turno dopo fai level up al 2 quindi lo fai un turno in ritardo pigli la vendimentale giochi il mozzo che ti hai rimasto in mano e sei praticamente messo uguale a turni cioè per livellare come se si come se praticamente avessi livellato al 2 e poi hai fatto la solita giocata che fai normalmente quando giochi con coppia del mozzo e il buff preso da ratking secondo me ci poteva stare comunque abbiamo giocato iro power pirata e non ci sono pirati si da dillo va bene comunque questo non è un brutoshop andiamo con i demoni cioè prendo due monete qua prendi due monete si compri tu cioè compri il 2-3 lo 2-3 3-3-3-5-4 esatto oddio aspetta se fai il 3-3 no fai ah no si 2-3-5-3-5-4 c'è il goal esatto oddio in realtà è forte però è forte sta roba sì sì no bellissimo turno dopo poi usiamo le due monete e compriamo tre cioè se andassi sempre così quando power livelli power live resti probabilmente tutte le partite eh sì perché adesso cioè ovviamente dipenderà anche poi dal roll delle taverne però sì perché adesso si perdi ok perché l'oppo ha giocato indietro cioè è basso di diciamo che ce l'aspettavamo le perde però ecco però prendere dai 3-5-dun dai 3-5 magari riuscire a prenderne effettivamente solamente 3 e prendiamo 4 eh va bene perché adesso comunque tu hai qui 3 pezzi lui ha un sacco di spazzatura noi invece ne abbiamo 3 forti a cui adesso in teoria dovremmo aggiungere altri 3 forti oh no non è male in realtà sì va bene e a parte vabbè è veramente l'ero power esatto missato è incredibile è incredibile però i mech sono forti sì mech e bucaniere e prendiamo anche il 3-3 no ovviamente eh sì per forza vabbè possiamo essere abbastanza soddisfatti eh dai hai il pezzo che scala metti il mozzo secondo ah diritto ok potresti diritto metterlo primo per non buttare neanche i buff ok e poi credo che la bomba terza ma sì la bomba la bomba la mette di terza cioè preferire per il fisico sempre fare i value trade prima col pezzo ciccione no perché magari se ha un taunt con doppio pezzo io lo tradiamo invece che buttare danni col 6-7 però questo non lo sappiamo eh non lo sappiamo dipende cosa oppo va bene a me piace cioè ho notato che è meglio tipo metti lui c'è un pezzo un tanto glielo valutrati e poi la bomba magari ti trada qualcos'altro però hai fatto un value trade sul tuo pezzo forte esatto e ovviamente il 3-3 non mi sarà di più non più del bucaniere esatto sì la bomba è un 4-4 è valutato anche questo immagino vero sì la bomba è un 4-4 va a mettere comunque prima del 5-4 perché più o meno fanno lo stesso quello sicuramente sì la bomba è un buon pezzo da far scalare con il sensing ma probabilmente solo il devi buttare a me di bomba oh e qua abbiamo un bel 100% finalmente ma il tipo è andato al 4 eh sì è quello andare al 4 con sta roba o avrà trovato un sacco di coin dalle 2 spell l'avrà trovato infatti non so cioè veramente della monnezza importante forse ha frizzato una tripla può essere sì probabilmente come dici tu avrà una tripla abbiamo finalmente beccato il matchup giusto cioè beccarlo prima è un elementale cioè un elementale non è l'altro il cazzo non è l'altro il cazzo però finalmente eh ho capito ho capito qua ti rappiamo sempre ma sì ti rappiamo e prendiamo l'elementale e prendiamo veramente l'elementale finalmente sì è un 4-5 town ci sta è la prima volta che ti becca no ma tu ti devi rendere conto che sono è incredibile ma quanti turni sono che non beccavi cioè diciamo che da un po' di partite in realtà che c'è questa frustrazione che legge dell'aria però è molto divertente che sia così anzi è molto scontato ed è giusto che funzioni così anche a me mi spaventa misce anche perché non si rende conto dell'air rape che genera mia figlia di tre anni ti adora e mi chiede sempre papà metti Atis fantastico caro bellissimo guardate cosa possiamo aggiungere tra i vari nomi che sono stati errati Atrix Atis è il migliore Marco Dicca se tu non hai niente da fare settimana prossima io probabilmente devo tornare a casa e mi fermo a Bologna per qualche ora ti ho fronti ma io mica sto a Bologna sto a San Maria vabbè ma da San Maria a Bologna quando è? eh non due ore e mezza c'ho due ore e mezza non ci stanno Mac un'ora e mezza ma non è che se tu vieni a Bologna ti ringrazio per l'invito non è proprio dietro l'angolo studiavo a Bologna vedi che non ci stanno Mac però vedi siamo tornati alla normalità ti piacciono questi tre pezzi? 4-5-6-4? no non mi piacciono a me piace il level up qua sì sì manca me potresti prendere solo cioè alla fine che ti serve il 4-5 per dare più di attacco a Roccia Fusa cioè dovresti vendere tipo il Bucaniere il Mozzo il 5-4 e il Mozzo e prendo 6-4 4-5 e 4-5 non ti potenzi così tanto secondo me è più forte tipo se fai level up vendi Bucaniere e Mozzo e prendi la 6-4 e basta ok San Marino o Bologna quanto ci vuole? un'ora e mezza alle tre quarti a me di quanto a questo a questo che mi fottono cioè io praticamente non mi rendo conto che molte volte investo soldi invece che fare così a tirappare per migliorarmi di poco capito? eh quello è l'errore che bisogna cercare di evitare di fare perché è quello che ti rallenta un turno e alla fine pesa specialmente qua con eroi scarsi come questo che se missi un turno qua poi non mi combini niente 2-4-5 no in realtà quindi quel 6-4 pulitissimo così abbiamo giocato con 6 pezzi abbiamo giocato 2-3-2 2-3-2 siamo a posto cioè abbiamo fatto quello che dovevamo fare adesso dobbiamo possibilmente non perdere sto fight visto che non siamo quest'otto anzi attacchiamo il 4-4 ok però abbiamo perso 24% è così era eravamo in realtà attenzione era un mega flip però cioè dovevamo pareggiare qua vedi vedi non ci sono elementali e lui lo fa ok cioè offre la casa che va bene offre la casa esatto che facciamo subito prima oddio prima fai un roll prima fai un roll e non ci sono ancora elementali contro barov che in realtà va solamente ogre niente fai fai a fare la casa vai eh zano eh sì sì abbiamo elementali mech dobbiamo trovare altri tribe credo che roll qua no? ti serve il pirata possibilmente non quel 4-5 quindi un nut e ti serve il drago ma muro non puoi prenderlo vai prenderlo intanto rolli il 3-1 è già due demoni non lo so cioè non è malvagio eh è forte dai prendilo quello lì 3-1 è forte non lo so cioè pomparlo con fango è tanta roba quello io lo prenderei per ora li teniamo magari lo vendiamo dopo fai un roll ok allora vendi il 5-4 vendi il 5-4 vendi il 6 fai murozone vendi il 3-3 si vendi il 3-3 devi comprare il 3-3 quello lì e devi comprare nut anche quindi vendi il 6-4 devi giocare fango e annichilan vendi anche sensei vai vendi sensei vai perché devo vendere il 2-2 in maggio no? si esatto allora in realtà adesso qua abbiamo fatto abbiamo avuto un attimo un rallentamento nella comunicazione ma il top era era fare annichilan vendendo i due demoni vendendo i due demoni fare il 3-3 poi su annichilan comunque qua anche qua sfighe perso un 15% comunque si chiudevi su annichilan e gli davi il 3-3 sopra così diventava 15% e si si poteva fare qua in sto spot lo prendo per annichilan no? sicuramente oddio cioè allora noi vendiamo l'11-12 e il sensei il 12-2 perché così il buffo va là esatto quindi si si può prendere non è nuts perché non abbiamo bran però effettivamente su annichilan perché tanto non ti rappiamo mai si dai non ti rappiamo mai no argus non ti serve già è roccia fusa no no credo che l'investimento non valga la pena no no non valga la pena rolla ancora ancora si ancora è già la spazzatura mamma mia ancora 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 come dice come dice Satillo ancora e niente allora via il divoratore via il via il divoratore via il oddio non vogliamo tenere il sensei questo tour no 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 via il sensei possiamo rovare ancora però però oddio cioè probabilmente probabilmente va va rollato si va fatto va rollato non so se troviamo brand se vendere l'elementale probabilmente si tanto nel brand non lo troviamo cioè se qua compra quella vendere l'elementale si o il 7-7 no il 7-7 probabilmente non lo so e probabilmente salta il 7-7 si o no in realtà il 6-7 comunque qua facciamo Nikilan poi ti dico prenderei la coppia bravissimo però la tieni in mano la tieni in mano si 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 non ha senso giocare adesso ah ok sei contro il morto Matti per favore ok no la domanda è sentiamo brand andava bene il positioning rimettilo pure come era prima così allora quella quella Nikilan è fortissima adesso non ci sono i Murlock quindi ci dovrebbe carriare sto fight c'era brand che arriva per buona parte della partita probabilmente no sentiamo brand si ma anche adesso dovrebbe comunque carriare ottimo allora noi qua andremo al 6 probabilmente mai 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 perché siamo troppo troppo bassi di vita quindi potremmo andare giusto forse a fine partita proprio la ragazza quanto è bello sto fatto cioè alla fine mi da due gold no? si si bellissimo quando Nuts ti ha due gold è una festa non è importante che siano brutte cat sono due gold sono due gold esatto e noi siamo un eroe scarsissimo che non ha fatto triple quindi prendi la coppia di bomba e la tazza ok roll non ci sono demon si vabbè che qua adesso l'eropower di Ratking sposta poco non ci servono cioè nel senso allora il drag è vabbè l'hai sfruttato finché ti serve secondo me è già quasi come il 9-9 è già quasi come il 9-9 vendendo anche il drago abbiamo assone di possibilità tipo a fare il demore no? si nel senso Murazon non è un brutto pezzo perché se riesci a triplare in qualche fantamodo ti vince il game non lo so se farei lo switch ai ghoul io non lo farei lo switch io non lo farei lo switch perché chiudi di ghoul sto turno fai fai il roll si vai ok roll ancora ce n'è ancora uno bomba allora vai di vai bomb c'è quella lì vai prendi la tazza via quello lì dobbiamo decidere se sciogliere la coppia del 2-3 o buttare il ghoul ma il ghoul va bene butti il ghoul vai ok non era male per chiudere sto turno sei contro robot e non hai scudi divini però va bene lo stesso Kalegos è lento vero? si si lascia stare Kalegos prendi il prendi il 4-riper o la barca metti davanti il 4-riper vai dai ci sta ok così ce n'è anche corretto si metterei forse nut secondo ma è uguale qua dipende quanto quanto pensiamo di sopravvivere intanto dobbiamo sopravvivere sto file ok siamo sopra perché ha bene allora è stato giusto vendere ghoul in sto spot pensavo fosse più forte Silas però effettivamente è andato al 6 ma ti ti chiedono non è che hanno cambiato l'euro power e quando c'è l'euro power non c'è quella tribe non possiamo compensare l'euro power tanto non serve più niente il secondo me è veramente caro dai cioè l'abbiamo missato quando era da missare cioè quando non era da missare adesso non cambia più niente più 2-2 comunque le tiriamo 20 danni siamo contenti massimale ottimo uno fuori prendi l'elementare per l'elementare non sapevo che lo diceva possiamo fare toppo possiamo fare toppo qua che vogliamo cioè qua noi che cerchiamo c'è cosa c'è ora modulo i moduli ok è una carta però sì è vero un altro fango non ti fa me il 6 quindi si fa me il 6 per cercare cosa? buono al gadone solo al mal gadone quindi in realtà è sempre una carta e spendi 6 gold secondo me è roly e basta devi potenziare il suo turno annikilan vai prendi annikilan rollo rollo 3-3 lo prendo sempre no perché è la copia di annikilan bravo preparata bravo annikilan però allora allora per me qua salta oddio poter oddio cioè o salta la bomba perché hai già il fuori mi sa che salta la bomba esatto salta la bomba gioco annikilan vai prendo annikilan triplo annikilan è sempre la stessa carta a mal gadone ok fai roll si vabbè rolla e gioca a mal gadone frizza 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 perfetto non è perfetto purtroppo è una merda mettilo proprio tutta a destra oddio che è sto positioning la mal gadone tutta a destra mettete tutta a destra benedetto benedetto tutto a destra va bene va bene non ha non ha cleave siamo forti siamo forti vedi alla fine questo che cercavamo noi triplare i nostri pezzi andare al 6 era era come fare top 6 ok si ha ragione io sarei andato al 6 e avrei perso lo posso magari non ci credete però chi l'avrei fatto mattina abbiamo che hai frizzato perché in modo che adesso cambia il hero power però c'è comunque un pezzo del hero power così quando hai detto vinci mi aspettavo una maexna che usciva dai che becchiamo il bot se becchiamo il bot andiamo al 6 ok vai andiamo al 6 caro si vai divi shield divi shield oddio la doppia attacca no divi shield dai oddio in realtà potresti no fire clean l'intabituale bravo si si l'intabituale allora vai allora vai al 6 rolli prima di giocare prima di giocare qualcosa ok allora file elementale vai si vediamo cosa esce ed istra eh si direi che è l'istra non si sembra male no? si prendi l'istra che non giocheremo a sti fight qua no stiamo volendo prendere il 3 rollare no? c'è una sorta d'assicurazione si va bene vai ci sta giocata giusta ora tipo il 3-3 si può fare sul divoratore quindi allora potremmo far tornare la malgadone si giusto no? si far tornare la malgadone vendi tipo il pirata che è un più 3 più 3 gratuito sul 640 secondo me è fortissimo e poi posso prendere diciamo il vendimentale si io rollerei qua è anche a iohogre da vendere rollerei qua ok vendi iohogre compra prendi l'istra si anche rag non è male prendi l'istra va bene guarda posso prendi rag prendi rag e fai amagadone ok va bene così cioè rag rag non è male si è uscito una merda di nuovo non ha preso né scudo né veleno rag non è male però in realtà è un po' lento ci sta a prendere altre l'istra eh no ma più in alto rag poi non so che togliere cioè sicuramente la fungo va via fango e va via murozone probabilmente comunque va bene lo stesso cioè a coppia comunque c'è l'amalgadone qua era importante cioè o trovavo si trovava bran perché se trovavo bran potevo anche pensare di non giocare subito l'amalgadone lo giocavo il tiro dopo probabilmente vendevi subito murozone e facevi bran l'amalgadone probabilmente è buonissimo qua no non è vero destra bene top altro gold bravi tutti allora qua qua come si chiama la la carnassa la pirata dai top 3 abbiamo fatto è incredibile si inizia a vedere delle vittorie con il nulla con il nulla esatto un fango pesati 8 allora 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 che si fa che si fa probabilmente si rolla qua 2-3 non è worth 4-4 non lo prendi no no non credo che sia volto rollo 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 bran bran eh bran si è da turno prima eh lo so però possiamo prenderlo comunque no per me qua dobbiamo pensare a come chiudere sta compi io non lo prenderei bran deve saltare anche fango sto turno si salta fango per il lisa in teoria e quindi non serve neanche bran ok modulo è quello che ci serve buono beh fate fatto che gli prendi sempre modulo e devi trovarne un altro di modulo adesso vai vai no no vai rollo l'avete detto anche voi no oh gul gul no hai listra niente rollo ok tazzona vai vendi il 2-2 fai è al 12-15 secondo me si perché a magadon se lo riesci tipo a triplare una fanta scenario può prendere scudo mentre quello no quindi si vai vendi vendi sensi fai la tazza bravo potresti pensare poi di vendere la coppia più che altro bene sciogli una per prendere un'altra non so quanto convenga cioè se lo fai solo per fare il piega la mire per baffare ancora i miei nemici cioè vendere tipo l'istra shredder secondo me ci sta perché tanto qua devi cercare di fare più stats possibili quindi vendi shredder l'istra fai il 2-5 sul sul 4-reaper vendi il 2-5 piazzi l'istra la metti tutta a destra ci metti alla sua sinistra il demone e fai un roll ok scusa Marco però qui non era più saggio tenersi l'istra anche perché poi si è loccato no? eh se Luca ma ti devi cercare di vincere però noi non savamo di essere più forti dell'istra capito? secondo me era questa l'idea eh sì perché tu devi cercare di adesso di vincere l'ifight e comunque non siamo loccati c'è salta salta quel muro che è schifosissimo 19-19 sì non è salta lui intanto no c'è nel senso io non so forse avrei fatto la stessa cosa ma avrei visto tazzina però forse era meglio buffare direttamente il mech no che la tazzina eh penso di sì è un cleave alla fine è un cleave quindi più forte comunque quella com'è che si chiama? no un attivo oppo è riuscito a scammare il pareggio cioè scammare il pareggio no ha vinto il flip sul pareggio ha vinto sul pareggio era la scammare se ci batteva allora tazzone ci sta qua bisogna chiudere su selfless anche adesso serve abbiamo molti gold andiamo avanti vai vai brann con la tazzona non ti sembra buono? devi far saltare due pezzi eh lo so e ti sbagliate posso fare solo zord e nut? eh stavo pensando proprio a quello forse no io se no vado? il problema è che poi alla fine cioè ti do ti ripotenzi troppo no non farlo cioè potresti prendere potresti prendere solo brann e eventualmente valutare se trovi una magadon ma non lo farei vai roll parola così no no ok via muro via muro via muro tazzona tazzona esatto prendi selfless prendi selfless e rolli ok fai vendi vendi il pirata fai un'altra magadon ok vendo il pirata no? si due roll vai no non la due si si va bene freeze si si è freeze ok che che sfiga però che stiamo anche qua è un flip dai è un flip è un flip bello sto trade bravi tutti ce l'avevano detto tutti volo eh perché non lo posso dire ce l'avevano detto tutti volo lì eh devi ammazzare quella magadon però lo scudino su quello lì è è veramente fortissimo quindi eh l'abbiamo tolto dipende come vanno i tre questo è brutto questo questo è brutto è bruttissimo bruttissimo devi attaccare laggiù ok attaccare laggiù attaccare laggiù è vinta attenzione non è detto potrebbe uscire Max non dare lo snid se c'è Max non ti installo certo ma bravi tutti ok questo è il motivo per cui BGM è una ladder quindi che va culo volevo dire una cosa ma come la ladder va culo si non fatti bello 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 ok abbiamo vinto un flip ce l'abbiamo fatta e adesso becchiamo il bot quindi teoricamente questo dovrebbe essere un secondo posto se tutto va come deve andare mi manca il connello che mi fa notare che mancano i pirati vai rolla quasi che la selfless 3-3 vogliamo prendere eh sì perché noi dobbiamo lasciare per fastidio bravo vai lasciare per fastidio non è no è stato bravo lo stesso e te lo prendiamo beh 2-3 ok cosa salta il 20-27 forse il 20-27 o la selfless 20-27 lui è 22-28 ma non credo che cambi no 22-29 ma è brutto il 20-27 sta a diventare cominciare a diventare veramente scarso cioè ok ma il 2-3 lo prenderesti sì comunque il 2-3 sì ok prendi il 2-3 fai prima il 2-3 penso lo vendi e poi eventualmente sì fai quello ma potrebbe uscire una coppia di quel 3-3 va a capire ma che poi la coppia del 3-3 non te ne fai niente la tripa del 3-3 ah sì esatto vabbè roll ti roll vai quindi fai divora quello cacci la prendi la tazza piazzi il modulo su quello con vileno ok e serve bumper no non lo so non mi ricordo come era messo questo penso sì che si posisce mi sa comunque questo potresti mettere il bumper perché è l'istra sì metti bumper se trovi un'altra magadona lo tripli qua tu sì sì a voglia subito perché il secondo magadona non può prendere veleno quindi non è che è debole bello il bumper qua è la voglia ma questo tizio non era così debole no però abbiamo il 100% però noi siamo più belli vabbè ma quello è l'istra lì ma c'è sto game nat ci ha dato veramente emozione brava non credo che era fortissima questa cosa brava qua murozon si può valutare perché ha due a malgadon l'oppo in che senso murozon caro per rubargli la malgadon cioè prendere a murozon per cercare di rubare la malgadon dal bot e triplare il nostro malgadon drago 5-5 che ti dà un pezzo dell'oppo murozon potrebbe arrivare si può valutare mi piace quello la fai su a malgadon lo prendi il jolly e anche tripla è tripla ma non puoi giocare perché ti mangia malgadon esatto bravo però lo prendiamo il jolly però lo prendi lo stesso perché puoi triplare il surface vai si rollo tripla di el'aistra tripla di el'aistra allora beh si fa dai la spell sul 23 si si vai in realtà non ti mangiava niente allora potevi fare la tripla oh si ti mangiava la malgadone ti mangia la malgadone vai fai la tripla di el'aistra non so se sposta però teoricamente potrebbe prendere un colpo in più visto che aveva una piazza 6 nadina nadina sempre vai gioca mag gioca oddio vogliamo aggiungere una tribe sa che conviene prendi il pirata oppure no rolliamo vai roll hai un roll vai vai vendi il 3-3 a caso prendi l'elemental 1-3 quindi questo quindi questo è perfetto quindi questo for reaper si for reaper hai sfruttato hai sfruttato anche l'ieropavo quindi vai vai via altre 5 tanto qua giochiamo nadina dobbiamo posizionare quindi metterei bravo lì nadina perfetta no no hanno winfury no 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 hanno winfury mettili come erano prima mettili metti metti si così così va bene vai ok forse forse ok no no si va bene ok comunque la selfless può quasi salpare no bro cioè è l'unico modo per posizionarli potevo mettere nadina prima ma non ha senso nadina prima non ha mai senso qua scusami e l'isdra prima si l'isdra prima ci poteva stare e l'isdra prima su nadina 2-1 su hai di sperare che lo scudo non vado su nadina va bene comunque hoppo è più forte qua molto più forte probabilmente ci stava quanto mette nadina ancora più indietro indietro buono 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 zitti e chi parla ci sono gli 1-1 che rompono i coglioni eh si è morti bravi tutto e l'isdra prima di nadina ancora dopo no elistra prima di nadina forse elistra prima di nadina esatto ci stava no come idea si dirà così e così attaccava e poi nadina approccava va bene normale ma c'è poco tempo per ragionare perché devi dire anche le cose a me ci sta no ma questi questi turni finali sono partiti a scacchi no no ma infatti no ma è difficilissimo per te è difficilissimo fare questo lavoro diciamo di brainstorming cioè di condivisione di idee però alla fine possiamo dire prendendo la casa statistica sì che se qua metti 1-8 prima di nadina probabilmente nadina ti refresha quanto meno sì nadina diciamo che nadina in questo spot non era il top perché quei amalgadon purtroppo avevano scudo avevano infiori però nel senso tra i pezzi a 6 che c'erano era l'unico che ti dava un po' di value sulla borde non potevamo trovare maxna perché non c'erano le bestie non potevamo trovare i murlock quindi era un po' difficile andare a chiudere sta comp forse forse non dovevamo triplare l'istra e dovevamo fare per essere ancora più forti tipo altri roll per cercare di triplare invece selfless che invece ti avrebbe dato probabilmente un vantaggio selfless dolata e poi di quel forriper quel forriper si poteva era debolino non era poteva anche semplicemente sa che era troppo più forte lì cioè alla fine mi ha fatto secondo posto con rat king senza giocare con i low power quindi non startare ma grazie 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 grazie